Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, di iscrivervi da questa parte, attivate la campanella. Parliamo del futuro di un giocatore che è importante nel Milan e che potrebbe non essere più al Milan. Il giocatore in questione non è Kier, che sicuramente lascerà il Milan in estate, il suo contratto non verrà rinnovato, nonostante le ultime partite stia facendo bene. Però il Milan guarda oltre, lo ringrazia e andrà avanti per volontà del Milan, non si rinnoverà, detto che lui sarebbe anche rimasto. Il giocatore in questione è Giroud, anche lui ha il contratto in scadenza giugno, il Milan porterà avanti questa trattativa più che altro verso la primavera, però ci sono un po' di criticità, nel senso che lui farà l'europeo, quindi avrà un'estate piena di impegni, anche perché lui vorrebbe fare pure le Olimpiade da fuoricuota in Francia e il Milan questo non lo vorrebbe. Ha ricevuto delle proposte dagli Stati Uniti, a due settimane fa aveva proposte però da club di città che non gli piacevano un granché, quindi se devo trasferirmi da un'altra parte, perlomeno che ci sia una bella città che lo attiri. Non so se nel frattempo il suo entourage sta ricevendo proposte o cercando magari contatti con altre squadre dell'MLS, però è una tentazione forte per lui e la sensazione è che più che per la volontà del Milan sarà lui a decidere il suo futuro. Poi se arriva Conte, secondo me Conte fa carte false per tenerlo perché già lo voleva all'Inter e ritiene che sia un grande attaccante, nonostante si avvicini ai 38 anni. Però lui è consapevole anche che giocherebbe di meno, che forse il suo ciclo europeo è finito e che andare a giocare in un altro campionato potrebbe essere stimolante, oltre che essere grande poi esperienza di vita. Vediamo che cosa succede, vi dispiacerebbe perdere Giroud a fine stagione, oppure giusto così visto che va a versi 38 anni? Scrivetelo qui sotto nei commenti, lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate anche la campanella. Un saluto e grazie, ci vediamo presto.